e ciao a tutti ragazzi io sono l'unico e solo e oggi siamo di nuovo su clash royale bene oggi cos'è la sfida? la sfida draft consigliata, non la sfida draft cazzo dico la sfida comunque consigliata da voi è stata una sfida in cui io utilizzerò un mazzo solo epiche perciò sto andando già a creare il mazzo utilizzerò come slot lo slot della sfida draft che avete visto tre giorni fa vero che l'avete vista e andiamo a creare il mazzo della sconfitta più totale io metto un golem e un boia sicuri potrei usare un barile goblin da usare insieme al golem quando butto il golem per contrastare un po' tutti poi metterei un cucciolo di drago raga costa avendo un sacco sto mazzo un barile barbarico che fa da tronco dei poveri perchè io il tronco è una leggendaria e io devo usare solo epiche in questa sfida orda di scheletri che ha una buonissima difesa non la userò in attacco perchè l'ora degli scheletri non si usa in attacco i player che usano l'ora degli scheletri in attacco sono soltanto degli aborti dell'umanità da investire con la macchina e passarci sopra più e più volte poi potrei pensare gli spacca muro sono una carta troppo inutile ma la specchio potrebbe salvarci il culo e una carta che counteri bene tutto ma più che altro mi servirebbe una carta a un costo non troppo alto che possa fermare il gran cavaliere proviamo con il cacciatore anche se non lo fermo proprio bene me ne frego se mi cacciano il gran cavaliere sono fottuto ma tanto il gran cavaliere lo utilizza chiunque in questa arena quindi andiamo a giocare questa partita che ci piacerà un sacco bene il solo epic è iniziato dropperemo un sacco e torneremo sfidante 2 il mio obiettivo è arrivare maestro invece arriveremo di nuovo sfidante 2 l'unico e solo approves ok non posso manco usare le stature desider perchè è una rara quindi inizia subito buttando un boscaiolo parecchio incazzato pure il e la maduana tutto insieme ok raga abbiamo preso un sacco di male ma ne siamo usciti ancora con la torre subito il golem aspe con calma il golem ah eccolo lì il gran cavaliere lo sapevo lo sapevo che arrivava lo sapevo lo aspettavo va bene cuccio il drago e facciamogli del male insieme alla torre del gran ma se tipo decidessi di raga guardate il gran cavaliere come insegue il golem non riesce a pigliare non lo piglia cuccio il drago doppio così riusciamo no alla giro sto infame alla giro sto infame hai infame per te solo le lame per te solo salame no mi fai mi sciotta i cuccii di drago no raga quante hit raga quante hit però siamo comunque in svantaggio non mi va bene sta cosa io direi che per recuperare un po' di svantaggio buttiamo un un barile goblin lui sicuramente aveva il counter perfetto infatti eccolo lì e allora io vado di cacciatore che ovviamente viene counterato perché figuriamoci chi è che non countera il cacciatore è la carta più counterabile di tutto il gioco barile barbaro forza ok raga siamo adesso non siamo solo in svantaggio siamo in netto svantaggio perché c'ho poco di zir c'ho però un golem che potrei volendo buttare lo facciamo sì dai il gran cavaliere si butta sulla torre perfetto il momento giusto per porca troia mi ha gelato tutto come faccio qua oh devo ancora usare la tattica tra l'altro tanto cucciolo di drago qua e fermiamo quello poi barile goblin dirai che doppio barile goblin e prendiamoci la torre e ci ripegliamo e mo ci ripegliamo tutto quello che è nostro te lo dico io che ci ripegliamo tutto quello che è nostro frate guarda qua guarda quante hit e adesso guardati sto guademi in base adesso guardati sto baghile barbaro che ti sfonda quei cosetti adesso guarda sto baghile goblin che ti sfonda tutto no adesso mi sfonda lui però va bene facciamo un'altra battaglia con questo mazzo solo epic e mio dio lagga fa schifo il mazzo come vinco io ma raga questa è una questione d'onore pati xl tu hai avuto la tua condanna a morte cliccando sul pulsante battaglia perchè adesso io te sfondo il culo ma non è vero ma è una vita perchè guarda cosa c'ha la cintilla subito manca il tempo di iniziare la partita e subito sfonda la cintilla ma mi ci buttano una degli scheletri cattiva pure nel bocciatore c'ha ale ci buttiamo un baghile barbaro nel dubbio per far tankare a lui e forse bene o male riusciamo a fermare scintilla si ce l'abbiamo fatta raga che ansia quando buttano la scintilla sti infami vai col boia boia contro boia la rivoluzione combatti boia anche tu boia boia ladrissimissima guarda come te sfondo il culo arriva un gigante parecchio incazzato nessuno dei due ha ancora fatto hit ma molto presto le farà lui ok ho avuto un cucciolo di drago e un'orda di scheletri che potrebbero essere insieme la rivoluzione o forse no l'arcere magico è un bel dito in culo per questo mazzo vai cucciolo di drago fai qualche hit no oh raga c'ho ancora l'orda di scheletri che bello mi diverto adesso e mi divertirò di più appena ci avevo bruttato il mio golem perchè lui non ha ancora visto il golem allora allora le scheletri le appiazziamo in modo che lui già che la scintilla ce l'abbia subito non subito a fianco ma oh il cacciatore ha deciso di fare male però non troppo adesso ti butto un bel golem in base guarda qua come sfondiamo ahhh tu mi vuoi buttare il gigantone eh ma tu vuoi fare l'americano con me a chiste ma guarda a chiste quante sceme e ti butto tutto tutto quello che è in mio possesso lo butto vai col barile barbaro e lui mi butta il mini pecca e io gli butto tutto gli butto giù la torre non è vero non ha fatto niente no ti prego drago no quello era proprio quello che non doveva succedere no mai nella vita mai nella vita no raga il drago ha focussato il gigante no 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 qua non ci siamo qua non ci siamo qua non ci siamo siamo ovviamente messi male raga siamo molto messi male ma no neanche tanto si adesso siamo veramente messi male lo butto lo butto lo butto dobbiamo fermare qualsiasi cosa su questo campo ho un'idea ho un'idea per fare un po' più di hit no le fecce c'ha maledizione non riesco a fare le hit mi servono le hit in questa partita se no che cazzo faccio per tutta la partita no 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 tu non hai capito un cazzo col domatore col domacazzi no no il domatore ma porca eva niente raga sto episodio è andato peggio del previsto ma non mi rassegno non mi rassegno sapete perché? perché ne faccio un'altra sono molto masochista ultima col mazzo solo epiche poi giuro che non lo farò mai più nella vita ok raga direi subito golem per devastare tutto e raga ma io la specchio no 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 devo fermare la fuorileggia ferma la fuorileggia bravissimi scheletri di merda il tronchetto easy ci fa una hit e io ci vado con loro degli scheletri no c'è la torre inferno praticamente barile barbarico vai vogliamo fare qualcosa con il bariletto il golem può arrivare sotto forma di golemiti che fanno uno di danno vai cacciatore devasta quello stregone elettrico devasta la fuorileggia intanto la fuorileggia non ci arriva a torre perché non ci arrivi vero? esatto mi è piaciuta quella fuorileggia allora potrei decidere di buttare un barile goblin ignorante sulla sua torre dimmi che non c'ha le frecce o il tronco ah no è vero c'ha va il tronco ma l'ha sprecato eh vabbè ci prendiamo le hit bastardi dagli goblinini non importa vai perché tanto io c'ho un qualcosa di più forte in base ah è vero lui si è sprecato oh lui si è sprecato tutto no c'ha il c'ha il cazzo elettrico dai ma non ci credo non ci credo ma è una vita e ovviamente i golemiti non ci arriveranno a torre quindi lui avrà la vittoria è un'assicurata no vi prego golemiti almeno esplodete vicino a torre bravi ma i golemiti guarda di quante hit zero ragazzi siamo messi veramente ma veramente male ora vai golem no il gran cavaliere è proprio l'ultima carta che mi aspettavo da questo mazzo vai cacciatore ti prego fallo giù il nome di sparta ti prego vai è barbarico anche tu fai qualcosa scheriti anche voi fate qualcosa perché la torre inferno si focusa sul golem non sul sul bariletto vai devo riuscire a fare giù quel gran cavaliere velocemente anche boia ladrissimissima ma cosa mi è successo cosa è capitato ti prego butta un altro boia stiamo attenti a quel coso lì guarda subito e alessi credo che tanto il principe mi arriva a torre mi fa giù tutto maledizione va bene il video di oggi finisce qui per l'estate finisce tutto io vi auguro una buona estate fatevi tanti bagni divertitevi un sacco andate a fare le vostre esperienze ma pensate anche ai compiti che sono una cosa importante io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo momento mi prenderemo a settembre con delle modifiche sostanziali e dico sostanziali al canale quando sarà settembre capirete di cosa parlo io vi ringrazio se volete mantenervi in contatto con me social che come in ogni video trovate nella descrizione noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti grazie a tutti